La popolazione di Venezia alle origini viveva quasi letteralmente sul mare. Il mio intervento si intitola Una irrisolvibile aporia, l'alternativa tra mare e terra. La popolazione di Venezia alle origini viveva quasi letteralmente nel mare. Le lagune proteggevano Venezia dalla terraferma e dalle minacce che potevano provenire dall'Adriatico, ma al tempo stesso la isolavano nel mare. Pertanto l'era così preclusa ogni attività che non traesse origine da esso. Il che non spiega affatto perché Venezia divenne una grande potenza marinara. Il mare rappresentava una sfida. Essa poteva essere raccolta, come avvenne, per un'infinità di villaggi sorti su isole o litorali, sul basso livello della pesca o del piccolo cabotaggio. È il caso per estringerci a località finittime di Chioggia, Caorle, Grado. Oppure questa sfida poteva essere raccolta al livello più alto, quello della intermediazione negli scambi marittimi fra produttori di merci diverse. Queste considerazioni così suggestive, a mio vedere, non sono mie purtroppo, ma di uno studioso che ha scritto un solo saggio che io sappia e poi è morto, lasciando me e Benzoni, mi ricordo, con il dubbio di chi fosse questa creatura, che si chiamava Fernando Fagiani. Come è noto, Venezia giocò la seconda opzione, quella dell'interscambio marittimo, trasformando il mercato realtino in un emporio, e la vinse. Il punto culminante della sua affermazione marittima fu toccato nel 1204 con la quarta crociata, che le diede il controllo dell'Egeo. Esattamente due secoli dopo, Venezia, nell'arco di una manciata di anni, si impadroniva dell'area padana da Lisonzo all'Alda. Noi sappiamo già queste cose. Eccolo qua, vedete il dominio di Venezia nel 300, la terraferma è ristretta alla sola Treviso e Conegliano, e poi invece nel 404-5 prende il Veneto e dopo invece, adesso lo vediamo con Francesco Foscari, si espande al di là del Mincio. Non che prima la terraferma, prima dell'espansione in terraferma del 1404-5, non che prima le fosse strane alla terraferma. Ovviamente gli abitanti delle lagune erano giunti da lì e da essa dipendevano per i generi di prima necessità, anzitutto l'acqua, per berla e per marcinarci il frumento, visto che in laguna non ci sono fiumi e pertanto ne puoi mulini. Inoltre molti veneziani, non necessariamente nobili, possedevano proprietà fondiarie, soprattutto per avere a disposizione i generi indispensabili alla tavola di casa, non certamente per arricchirsi in quanto le rendite dell'agricoltura sarebbero risultate nettamente inferiori a quelle derivanti dall'esercizio del commercio. La Venezia del 200 è volta quindi ad est, all'oriente. Si pensi alle due colonne di Todero e Marco, sul molo altistante la piazzetta. Esse non delimitano solo il confine del tessuto urbano, ma rappresentano, se così si può dire, una watergate. Si dischiudono verso l'elemento marittimo. Al di là di quella linea si aprono nuovi cieli e nuove terre. Inizia l'epopea dei mercanti. Questo schema fu valido fino a tutto il 300, con la parziale eccezione di Treviso e Conegliano, annesse nel 1337-39, soprattutto per le ragioni indicate sopra, ovvero avere l'acqua e le fondamentali derrate. Ma il guadagno, quello grande e pressoché ignorato dal fisco, veniva dal circuito delle mude che pompavano l'economia del Mediterraneo. Ancora nel 1498, l'analista Domenico Malipiero sottolineava la scarsa propensione dei concittadini agli investimenti fondiari. Idise scriveva che comprando stabili i comprabeni che da spesa senza intrada, cioè spesa a detenirli in conso et in colmo, diciamo in ordine, e senza intrada, perché i fitti va in decime. In realtà non tutti a Venezia la pensavano così. Vi erano famiglie che avevano acquisito forti interessi fondiari ben prima della conquista della terraferma, specchio dopo il crollo del dominio di Ezzelino da Romano e Pissalto. In seguito l'episodio più famoso di queste famiglie che avevano interessi in terraferma si verificò nel 1310 ed è noto come la congiura Badoer-Querini-Tiepolo. L'evento era stato preceduto da anni intensi. Nel 1297 c'era stata la serrata del maggior consiglio e un anno dopo, nel settembre del 98, la sconfitta subita a Curzola a Opere dei Genovesi, dove fu fatto prigioniero tra l'altro Marco Polo. In seguito, nel 1308, il tentativo da parte di Padova di formare a Ferrara un governo a esso favorevole, con provabile conseguenza di vedere compromessa la libertà di navigazione sul Po e sull'Adige. Da ultimo, la scomunica lanciata il 16 ottobre 1308 da Clemente V che difendeva Ferrara contro il governo marciano. Eccoci al punto. La congiura Badoer-Querini-Tiepolo ebbe come protagoniste famiglie che le fonti dell'epoca definiscono guelfe per i loro regami con Roma. Famiglie che detenevano vaste proprietà nel Polesine e a Ferrara, che è il punto d'incontro delle strade provenienti dalla Lombardia e dalla Germania. E Ferrara era feudo pontificio. In particolare, Giovanni Querini era stato vescovo dal 1239 al 52. In seguito, i fratelli Marco e Piero del ramo a Rialto risultano i maggiori proprietari veneziani in Polesine, appartenente allora agli estensi. Anche il genero di Marco Querini, Bagiamonte-Tiepolo, vi deteneva vaste possessioni e ancora maggiori interessi e fondiari aveva Badoero Badoer del ramo a San Giacomo dell'Orio. Era costui un gran personaggio. Suo padre Marco aveva sposato Marchesina Ziani, figlia del Doge Pietro e di Costanza d'Altavilla. Badoero poi garantiva l'appoggio degli estensi e dei cararesi in quanto aveva sposato Mabilia da Lendinara, appartenente ad una delle famiglie più potenti del Padovano e sua sorella Sofia Badoer aveva sposato Bonifacio da Carrara. Un loro fratello Marino Badoer si era maritato con Balzanella da Peraga, ultima erede di una famiglia ricchissima e la più potente nel Padovano dopo i cararesi, dando origine a un ramo poi denominato i Badoer da Peraga. Qui il mare non c'è proprio. Questi creano alleanze con nobili di terraferma e se non potevano vantare investiture imperiali a muoverli stavano precise circostanze economiche a cominciare dal fatto che la conquista di Costantinopoli nel 1204 aveva messo a disposizione dei veneziani enormi ricchezze che non potevano essere tutte investite nel commercio. Inoltre fra due e trecento si verifica una forte inflazione ricordiamo che la connessione del Ducato del 1284 don della convenienza a frazionare il rischio e a cautelarsi investendo nella proprietà fondiaria. Pressoché contemporaneamente un'altra famiglia patrizia guardava alla terra piuttosto che al mare i foscari. Quello che può essere ritenuto il capostipite del ramo ducale Nicolò di Giovanni 1295 e 1341 acquista nel 1320 da Enrico Scrovegni diversi possedimenti a 90 e nel 1328 ottiene da Cangherante della Scala il titolo di Cavaliere. Nello stesso anno sposa Balzanella da Peraga nipote dell'omonima Balzanella che come abbiamo visto aveva sposato Marino Badoer Ancora nel 1331 Nicolò Foscari questo Nicolò Foscari ottiene da Giovanni di Bohemia l'investitura della signoria rurale di Zellarino alle porte di Mestre con annesso titolo comitale. Ora avete presente la facciata di Caffoscari certamente sopra il piano nobile spicca un elmo che vuole alludere proprio il feudo concesso dal re di Bohemia Giovanni fu un doge a farlo inserire là dove convergono i due tratti principali del canna grande perché tutti lo vedessero dovessero vederlo questo doge è Francesco Foscari 1373 1457 un conte doge che con questo barso rilievo intendeva sfidare la città che l'aveva esaltato e vilipeso osannato e umiliato e con lui tutta la sua famiglia vediamo qualche immagine ma sono cose che voi conoscete questa ovviamente è Ca Foscari questo è vedete sopra nel piano nobile nel secondo piano nobile c'è due putti che reggono lo stemma Foscari in mezzo c'è questo elmo vedete questo elmo qua cosa significa significa appunto la significa appunto il fatto che il doge Foscari voleva gridare in faccia alla città quella città che la fece deporre e umiliare e incarcerare suo figlio e perseguitarlo e torturarlo per tre volte voleva gridare la sua vendetta è una sfida questo elmo sulla facciata di Ca Foscari che è la facciata più visibile di tutta Venezia sul canale grande e che poi l'aveva fatto deporre tra l'altro quando fece Ca Foscari il doge Francesco non aveva più figli se l'ultimo gli era morto e aveva nipoti però uno solo nipote tra l'altro Gracilino lo fanno sperare prestissimo e riescono così a assicurare la continuità del casato e questo doge quando fa Ca Foscari aveva 82 anni di allora che come dire a 100 di oggi e fa questa imprese incredibile nell'arco di non dico una manciata di mesi ma di 3 o 4 anni bene torniamo al nostro discorso quindi fu un doge a far inserire quest'elmo che di Veneziano non ha proprio nulla e di mare men che meno ebbene Foscari come sappiamo fu il massimo rappresentante della politica veneziana di espansione in terraferma ricordo rapidamente le cause e i tempi di questa svolta dal mare alla terra bisogna partire dalla guerra di Chioggia dalla grande coalizione che fra il 1378 e l'81 scusate aveva stretto la città e una morsa che per poco non le fu fatale l'evento costituì per la classe politica veneziana una drammatica presa di coscienza finché il retroterra era costituito da una miriade di città grandi e piccole feudi laici ed ecclesiastici signorie spesso rivali tra loro la collaudata abilità diplomatica e la potenza economica del comune veneciarum erano riusciti ad assicurare la libertà del commercio e l'accesso ai vali chialpini ma ora che questo mosaico di modeste realtà politiche era venuto a coagularsi in unità statali più ampie e compatte non era più possibile disinteressarsi della terraferma o per riprendere l'icastica formula la nota formula del canceller grande Raffaeno Carasini coltivare il mar e assarstar e a terra ancora la laguna si stava interrando quando nel 1453 il doge Foscari inizia la costruzione del palazzo sul canale grande lo specchio d'acqua antistante che forma una specie di lago in quel punto è il punto più largo del canale grande era profondo solo poche decine di centimetri di conseguenza la città doveva assicurarsi il controllo infatti quando fa il palazzo poi deve dragare lo specchio d'acqua davanti al palazzo perché veramente si stava interrando Venezia di conseguenza la città doveva assicurarsi il controllo dei fiumi per lo meno di quelli che sfociavano in laguna e infatti sappiamo li farà deviare e quindi anche dei boschi che mantenevano la stabilità del suolo a monte insomma era una esigenza di sicurezza che spingeva Venezia a guardare la Valpadana non bramosia di potenza finché Venezia conquista il Veneto dove la conquista fra il 1404 e il 1420 dei territori compresi fra il Mincio e l'Isonzo all'incirca le attuali regioni Veneto e Friuli sin qui gli altri stati italiani non trovarono granché da ridire in fondo poteva sembrare abbastanza tollerabile che le popolazioni venete fossero unite sotto una unica realtà politica proprio come era successo stava succedendo in tutta la penisola con informarsi delle signorie il problema sorse quando nel 1423 fu eletto Dogel Foscari che aveva soltanto 50 anni a 41 anni era diventato procuratore di San Marco giovanissimo per una carica a cui si arrivava di solito molto più avanti con l'età sappiamo che in vano nel 1423 cercò di contrastare nell'ascesa il suo predecessore Tommaso detto Tommasone Mocenigo esponente delle case più potenti e influenti i ricchi che da secoli monopolizzavano il commercio marittimo con Levante dove possedevano navi fondaci agenzie che permettevano loro di controllare la complessa organizzazione che dai terminag siriaci assicurava all'Europa con costante regolarità i rifornimenti di spezie e schiavi loro i vecchi vogliono la pace vecchi tra virgolette ovviamente federi alla tradizione marittima che aveva reso Venezia grande e rispettata ben comprendono che una politica avventurosa di espansionismo militare nella Val Padana avrebbe comportato il coinvolgimento veneziano nella torbida politica italiana un mare vischioso che ingogliava gli eserciti e disonguava i popoli il doge Mocenigo aveva intuito la potenziale carica eversiva di colui che ironicamente soleva chiamare il nostro procuratore giovane per cui sin da 1422 un anno prima di morire aveva preso a contrastarne le mire ambiziose viviamo nella pace così si era rivolto al Foscari nel corso di un dibattito sulla opportunità di intromettersi nelle contese che opponevano i fiorentini e i milanesi viviamo nella pace perché Dio è pace e chi vuole guerra va dall'inferno procuratore giovane Dio creò Adamo Savio buono e perfetto ma peccò in superbia e Dio lo cacciò dal paradiso dove era la pace e li fece conoscere la guerra e un fratello uccise l'altro così succederà se noi faremo a modo del nostro procuratore giovane qualche mese dopo sentendo prossimo alla fine il Mocenigo aveva convocato la signoria che nelle sue stanze dove tracciò un bilancio ben conosciuto un bilancio impressionante della forza economica di Venezia concludendo in però ben ve conforto dobbiate pregare l'omnipotenza di Dio che ne ha ispirato a fare nel modo che avemo fatto la pace se questo mio consegno farete vedrete che sarete signori dell'oro dei cristiani tutto il mondo ve temerà et reverirà e a caso che possa saber da voi chi voi eleserete dose secretamente me lo dite in orecchia nell'orecchio per poter confortarvi per suggerirvi qual è quello che merita quelli che disano voler tuor cioè scegliere messer Francesco Foscari non intendo per quale rason però poiché il detto il ditto ser Francesco Foscari dice abusie et alto el vola più che non fa i falconi et Dio non voglia se voi il farete dose de breve sarete in guerra e così avvenne nell'aprile del 1423 il 41 elesero doge il Foscari è una manciata di anni dopo nel 1427 Venezia si trovò in guerra eccolo qua sfolgorante l'inizio l'inizio a Maclodio nel Bresciano l'11 ottobre proprio l'11 ottobre è quando mancavano una manciata di giorni perché gli eserciti rientrassero negli accampamenti l'11 ottobre 1427 Carmagnola che poi sappiamo farà una brutta fine conduce alla vittoria l'esercito della Repubblica che si impadronisce di Bergamo e Brescia Bergamo dista tre ore di galoppo da Milano eppure quest'ultima cavalcata Venezia non riuscirà mai a compierla per 30 anni Foscari avrebbe inviato i suoi eserciti a combattere nelle pianure lombarde ma inutilmente riuscì ad abattere la dinastia ma non il ducato milanese fra i veneziani che parteciparono a questi eventi ci fu come provveditore in campo presso Gattamelate con leoni Jacopo Antonio Marcello 1399 1464 imparentato col dolce in quanto sua sorella Margherita ne aveva sposato un fratello Marco Foscari ebbene anche questo Marcello fu tra gli esponenti patrizi che privilegiarono gli investimenti economici in terraferma piuttosto che l'esercizio della mercatura fu ritratto da Jacopo Bellini fu protettore di umanistico fra i quali Mantegna ristrutturò lo splendido palazzo Castello di Monselici che adesso appartiene alla regione Veneto dove curò un palazzo che era già stato dei Cararesi dove curò la gestione della locale Gastaldia ex Cararese e sposò in prima nozze aveva sposato una Miani che ha il buon gusto di morire subito per cui lo lascia libero in seconda nozze nel 1442 sposa una capo di vacca nobile padovana rimasto nuovamente vedovo l'anno successivo si rimaritò con un'altra nobile padovana Lucia Lion contemporaneamente suo figlio il figlio di Jacopo di Jacopo Antonio Francesco sposava il giorno fanno due nozze papà e figlio e sposano due Lion la sorella di Lucia Anna il padre di queste Lion da non confondere con la famiglia Patrizia Veneziana è questo un ramo padovano omonimo il padre di queste Lion Bartolomeo risiedeva a Padova nella contrada di Santa Lucia dove adesso c'è il Dipartimento di Storia dell'Università di Padova e presso di lui nel 1443 sarebbe morto Gattamelata insomma i veneziani che preferirono rivolgersi alla terra piuttosto che al mare a cercarli si trovano non a caso il leone marciano è rappresentato con due zampe sulla terra e due sull'acqua beh qui sono semplicemente immagini dello stato marciano vedete con questa sorta di cordone ombelicale che attraverso l'Itria dalmazio le isole Ioni e Creta e Cipro nel Cinquecento arrivava di fronte ai terminal siriaci delle spezie e questa è l'ultima impresa di Morosini che nel 1687 conquista il Peloponneso combattendo Venezia per 25 anni contro questo staterello vedete che era veramente pachidermico come Venezia si è riuscita a battersi per 25 anni è veramente insomma rimane ancora adesso perché lo strano è che quando beh comunque adesso lo dico scusatemi insomma i veneziani che preferirono rivolgersi alla terra piuttosto che al mare a cercarli si trovano non a caso il leone marciano è rappresentato con due zampe per terra e due sull'acqua a indicare la natura anfibia di una realtà politica che non si esauriva nella penisola italiana lasciamo parlare i dati sui 106 anni che intercorrono nel cruciale periodo che va dal 1406 al 1509 a Gnadello Venezia affrontò guerra in Italia per un quarantennio pari al 38% dell'intero periodo è in Levante del mazio compresa per 37 anni cioè il 35% la bilancia quindi non pende chiaramente a favore di nessuno dei due settori non c'è una priorità e se vogliamo guardare più avanti nel tempo quando i patrimoni del patriziato consistevano soprattutto a partire dal 500 nella proprietà fondiaria e si era ormai realizzata la grande impresa delle bonifiche la Serenissima si impegna lo accennavo prima in una guerra sanguinosa e costosissima contro l'impero ottomano è la guerra di Candia che dura 24 anni dal 1645 al 1669 e quando il capitano generale Damar Francesco Morosini si arrende verrà processato perché l'opinione pubblica veneziana continuava a volere la prosecuzione del conflitto contro il gigantesco nemico eccolo qua quindi 25 anni e il popolo veneziano continuava a volere la continuazione della guerra che era voi capite che una guerra al di là del mare è costosissima più che una guerra per terra non solo ma questo significava il blocco del commercio chiaramente se siamo in guerra contro questi signori queste creature voi capite che il commercio che era il sangue il latte di Venezia no si esaurisce non funziona fermiamoci qua e mi fermo davvero l'alternativa terra-mare resta una aporia si possono produrre tante prove a favore di una scelta quanto dell'altra per concludere ecco cosa scrive Sanudo il grande Marine Sanudo in data 5 settembre 1499 quando si era sparsa la voce di una presunta vittoria navale contro i turchi poi rivelata si infondata la prevesa e scrive venne una voce a rialto l'armada del turco a essere brusata tutti correva a San Marco adeo per cui non si poteva passare per Marsaria l'Iputi andava gridando per la piazza Marco Marco e fu fatto fuoco a rialto e sono campanone in Canariglio e altrove che è segnal la terra a un buon popolo et buon voler e tutti stai in aspettazione da mar non stimando le cosse da terra e non si trattava queste cosse da terra di inezie i turchi stavano devastando il Friuli e a controbilanciare appena qualche giorno dopo il 13 settembre la Repubblica la Repubblica conquistava Cremona e la Ghiara Dada soltanto cosse da terra appunto grazie grazie infinite a Beppe Gullino per questo intervento il programma prevede e credo possiamo seguirlo prima Valerani allora c'è un'inversione c'è la prima alla relazione di Francesco Valerani e poi quella di Deborah Howard prego grazie mi scuso per essere capitato come un colpo di teatro in realtà vengo da lezione e avendo subito parecchie come si dice rinvii a seguito della qualta io volevo esordire proprio con il senso del mare il senso dell'acqua grande ho appena lasciato giù gli stivali e quindi è evidente che c'è una empatia diretta e una partecipazione piuttosto viva a questo fenomeno che in corso d'opera io avevo preparato un abstract che forse avrete letto che a seguito degli eventi dal 12 al 27 novembre ma ancora oggi si mantengono ho leggermente modificato proprio per spiegarmi per darmi decostruire il fenomeno e io volevo partire da una parola chiave la parola chiave che ha una grande funzione polissemica è depressione che può essere declinata in varie modalità ci sono due modalità naturali quindi l'abbassamento durevole del livello in geografia area più o meno estesa della superficie terrestre che si trovi a un livello inferiore a quello medio della regione che è dove siamo noi adesso ma io la vorrei collegare anche in meteorologia cioè il fatto dell'acqua alta eccezionale è derivato da una depressione atmosferica che si è verificata si è rafforzata a partire da settembre ottobre con temperature medie piuttosto elevate che hanno prodotto una massa enorme di evaporazione e quindi un campo di bassa pressione dunque ciclonica anomala che ha interagito poi con i consueti richiami dell'aria più fredda più mite non proprio fredda mite direi atlantica dunque generando il vortice che ha prodotto lo scirocco il libeccio cioè quella componente aggiuntiva dell'acqua alta l'altra depressione vi risparmio quella fisica andrei a quella economica quindi Venezia si trova e in particolare le strutture previste per la difesa della laguna in una depressione economica una varia e cattivo uso di queste risorse che hanno generato la depressione psicologica che è quella che ha colpito credo non solo i veneziani ma anche chi ha a cuore le sorti di Venezia quindi il senso dell'amore malinconico la famosa penna scura l'intingere nell'inchiostro della malinconia come si suol dire presso la psicologia qui dunque la mia comunicazione si distacca un po' discontinua dalla comunicazione finora presentata sia ieri che oggi e mi aggancio più alla prolusione che ha fatto ieri Gerardo Ortalli evidenziando delle componenti che non sono secondo le scienze dure analizzabili in realtà lo sono perché si parla di psicologia ambientale si parla di geografia delle percezioni e di antropologia dei disastri cioè queste ci aiutano analizzare il senso deprimente della calamità endemica che connota il dissesto del bel paese cioè dobbiamo una volta per tutte capire che il dissesto idrogeologico è endemico dunque presuppone degli atteggiamenti anche storicamente dimostrati dimostrabili per affrontare questa situazione vi do solo alcuni esempi di bibliografia che è piuttosto importante la psicologa luoghi di attaccamento identità ambientale processi affettivi e memoria perché la psicologia ambientale si nutre anche di memoria un famoso testo di un geografo cino-americano che negli anni settanta ha scritto landscapes of fear paesaggi della paura un collega antropologo l'antropologia dei disastri ma soprattutto quello più tradotto in quasi tutte le lingue del pianeta è Ger Diamond che ha scritto il famoso testo da noi in italiano tradotto come collasso quando le società decidono di finire o proseguire ed è un libro che vi rinvio la lettura perché è un libro sia di geografia che di storia se volete di ecologia storica dunque gli storici si stanno dedicando abbondantemente con questo tutto questo determina un sentimento che ho verificato abbondantemente nei miei studi sulle calamità ambientali quindi da un punto di vista puramente della storia recente contemporanea soprattutto perché l'abitante è consapevole fa investimento affettivo nei luoghi quindi ognuno di noi esercita una ho detto prima empatia ma anche affetto quindi la ferita ambientale non è solo l'ambiente che viene colpito è una lacerazione dell'io cioè della nostra intimità che genera depressione psicologica quindi anche può proseguire con distonie neurovegetative serie curabili non più col dialogo col psicoterapeuta ma con la chimica ovvero psicofarmaci soprattutto perché questo pessimismo e depressione era tutto ciò che è accaduto era stato previsto quindi restano inascoltati i segni prodromici cioè tutto ciò che anticipa il disastro ambientale il caso di Venezia è il più forse il più plateale ma per fare ordine a tutto ciò io tengo conto anche di un recente collasso della presunta infallibilità della tecnica quindi l'Uibris tecnologica è dimostrato non solo da noi in Italia ma ci sono tantissimi altri casi in cui c'è un fallimento delle previsioni tecniche quindi effettivamente la prova è evidente che l'Uibris predatoria fa parte di un quell'illuminismo predatorio o razionalità incrementale che si dedica alla litosfera e alla idrosfera con l'atteggiamento che gli economisti più avveduti chiamano capitalismo estrattivo quello cioè che cerca a tutti i costi risorse da prelevare pensate pensate solo alla Shea Gas quindi il gas è il petrolio ricavato da argille bituminose che sta cambiando le geografie di tutto il Midwest degli Stati Uniti quindi noi abbiamo bisogno riflettere con questi nuovi fenomeni e soprattutto abbiamo un senso del mare una invadente marittimità che si è c'è il grande dubbio è un'anomalia o una variazione tutti dicono un'anomalia è molto più preoccupante se l'anomalia non è più anomalia ma è ricorrente cioè oggi avere 110 non è più anomalia perché se l'anomalia si spalma oltre la giornata dell'eccezione vuol dire che stiamo andando verso una variazione i climatologi la chiamano variazione climatica vuol dire riscaldamento globale quindi alla faccia di chiunque tenti di negare quindi noi abbiamo una traumatica rapida alterazione del senso del mare che è causato che ha causato un diffuso effetto di spaesamento spaesato secondo l'antropologia ma anche gli studi culturali più accreditati vuol dire la perdita del senso del luogo cioè non riusciamo più a riconoscere il senso del luogo quello che ci ospita quindi abbiamo un passaggio dalla ordinata certezza del cosmos cioè tutto ciò che è ordine a partire dai neoplatonici ma anche da Platone stesso e a tutta la teoria aristotelica ma prima ancora parmenide eccetera al caos della calamità cioè la calamità il caos genera la seconda legge della termodinamica la legge dell'entropia che vuol dire che non stiamo consumando qualcosa che non ci verrà più mai più restituito quindi è bene ripensare a cosa la letteratura ci racconta mi riferisco soprattutto a dei capisaldi letterari in tal senso tradotto in quasi tutte le lingue del pianeta che Amitav Ghosh il quale è venuto anche qua a Venezia e racconta nel suo ultimo libro del 2017 La grande cecità il cambiamento climatico e l'impensabile cioè la cecità l'incapacità di vedere lui può parlare di Venezia lui è venuto a Venezia conosce benissimo il fenomeno della qua alta tant'è che lui parte da un libro precedente del 2006 Il Paese delle Maree perché lui viene da qua viene dalle Sandarbans che sono il delta tra il delta della Ganga del Brahmaputra nel golfo del Bengala lui in realtà nasce a Calcutta però conosce perfettamente questa situazione questa situazione in cui è impossibile il governo delle Maree abbiamo già dei profughi climatici il Bangladesh è un po' come la un po' meno dell'Italia settentrionale solo che ha 160 milioni abitanti quindi c'è un problema effettivamente di dove rilocalizzare tutte queste persone lui fa una bella citazione nel suo libro la cecità dicendo e non è più possibile escludere simili dinamiche lui parla del Bengala ovviamente neppure da luoghi che andavano famosi per la loro peculiarità oggi si può forse parlare di Venezia senza menzionare l'acqua alta quando la laguna deborda sommergendo calli e cortili né si può ignorare la relazione fra tale fenomeno e il fatto che una delle lingue che si sente più spesso a Venezia sia il Bengali gli uomini che gestiscono le pittoresche bancarelle di frutta e verdura o cuociono pizze sono per lo più bangladesi molti di loro costretti a spostarsi dallo stesso fenomeno che ora minaccia la loro città d'adozione l'innalzamento dei livelli del mare quindi è una raffinata interpretazione della presenza una casualità probabilmente però il fatto che c'è un affrattellamento di chi subisce l'eustatismo cioè lo sollevamento lo sollevamento del mare dunque abbiamo che la domesticazione dell'idrosfera secoli e secoli di storia che la cartografia ci racconta gli atti notarili tutte le fonti possibili e immaginabili che gli archivi ci restituiscono ci raccontano dunque di una domesticazione dell'idrosfera che è una abile territorializzazione anfibia che poi la Venezia con i murazzi e con tutte le diversioni fluviali è riuscito in qualche modo a esercitare una tecnica efficace che si è completata nei tempi debiti quindi noi ci troviamo più vicini ai saperi delle comunità bangladesi tra i pescatori di Malamocco piuttosto che quello ciò che resta Pellestrina sempre rinvolta nella laguna nord rispetto invece al grande tema di Wittfogel sul despotismo orientale in cui le grandi comunità le grandi civiltà sono grandi civiltà fluviali cioè di governo con delle grandi energie militari se volete tecniche di coercizione per poter appunto governare la complessità culturale naturale quindi noi abbiamo queste problematiche ma lasciamo perdere adesso tutto questo discorso sulle forze globali che incidono sulle nostre percezioni noi dobbiamo tener conto che comunque dove siamo il mito geografico di Venezia risponde una delle più affascinanti cosmologie anfibie del pianeta confrontabili con quelle dei polinesiani con quelle anche di popolazioni che vivono in laghi interni come la civiltà tiuanaco tra il Perù e la Bolivia quindi la cosmologia si preoccupa di comprendere l'universo quindi capire la terra la sua posizione i cicli degli elementi primordiali qui l'abbiamo perché l'elemento primordiale della marea è il più elementare il più elemental cioè quello che proprio è alla base della comprensione del nostro rapporto con l'idrosfera e con la litosfera l'alternarsi delle stagioni la dinamica geomorfologica cioè sono tutti elementi che il global warming sta cambiando quindi abbiamo le nostre cosmologie rassicuranti sono da rifare sono cambiate quindi abbiamo delle relazioni tra la geografia fisica antropica e il contesto culturale che noi utilizziamo per comprenderlo usiamo testi letterari evocazioni i paesaggi da parte di uomini pratici che possono raccontarci io credo quel poco che ho ripreso delle mie antiche ricerche d'archivio vedo sempre che c'è la descrizione del grande temporale eccezionale Zendrini ne parla era il 1727 era qualcosa che forse è riconducibile a eventi che noi abbiamo e che stiamo patendo però con una intensità maggiore quindi se ha un passaggio da un'immagine geografica oggettiva quella che tutti noi siamo in grado di produrre alle rappresentazioni cioè è importante capire le rappresentazioni cioè come l'arte la letteratura l'architettura rappresenta costruisce un immaginario in base a tutto ciò che è l'oggettività in cui siamo immersi facendo una citazione molto elementare molto semplice Strabone che è un geografo ben conosciuto a cavallo tra l'era avanti Cristo e l'era cristiana è un geografo però che ha più un taglio più che tecnico non è come Eratostene o Tolomeo che fa i calcoli geometrici fa i calcoli dell'altitudine i gradi lui è più un etnografo un etnologo che descrive quindi parlando della nostra dell'alto Adriatico il sinus Adriatico dice in verità tutta la regione è ricca di corsi d'acqua di paludi soprattutto quelle abitate dei Veneti e quest'ultima è interessata anche dalla variazione del mare grazie ad una regolamentazione delle acque mediante canali ed argini come nel basso Egitto ecco il comparativismo molto interessante questa supposizione una parte dei luoghi fu prosciugata e resa fertile mentre l'altra è aperta alla navigazione quindi in qualche modo descrive l'adattabilità la resilienza la capacità di intervenire al di là delle cosmologie mitiche un pragmatismo molto più concreto per affrontare la complessità geomofologica ecco dunque abbiamo un senso del mare che io l'ho chiamato un'area di transizione un incontro scontro tra dinamica e fluvio lagunare e marittime quindi vi agisce l'acqua che è il più dinamico dei quattro elementi e che ha questa regolarità di passaggio dalla terraferma al mare quindi Strabone comunque evoca un bisogno di controllo di canalizzare di trasformare quindi il passaggio anche lui in qualche modo evoca un dispotismo infatti in piccolo rispetto alle grandi civiltà fluviali antiche anche Venezia tutto sommato è riuscita a produrre questo dispotismo idraulico però le sue radici sono molto antiche nel senso che pensate al mito di Antenore il mito di Antenore eroe fondatore di città amico di Enea Enea quando vagava ancora per il Tirreno prima di trovare la bocca del Tevere diceva ah un beato Antenore che ha già trovato si è già sistemato ha trovato questo a prodo ma come ha fatto a trovarlo non era facile perché per tutti i naviganti che vengono dalla Magna Grecia che vengono dal Mazze gli Illirici eccetera trovarsi un basso fondale in cui la profondità non è garantita non avere punti di riferimento come qualunque portolano antico ci dimostra cioè il profilo verticale della costa visibile a decine decine di chilometri di distanza crea dei problemi quindi le competenze nautiche in qualche modo mancano perché abbiamo barre litorane cioè che sono delle bassi fondali che emergono con le basse maree foci lagune quindi qui il senso del mare resta all'ancora resta all'ancora si ancora si prende una barca più piccola e si va a esplorare quindi è un'ambiguità dell'idrosfera c'è un'interfaccia di transizione che in qualche modo impedisce che cosa individuare gli accessi come han fatto Cleonimo Antenore ma tanti altri che poi si sono insediati nei porti canale della bassa pianura veneta a individuare l'accesso da lontano mettetevi dei panni di un navigatore se vi è mai capitato di navigare o di accedere a bordo di una tante venendo dall'Illiria banalmente un charter vacanziero estivo con lo skipper che vi porta a Chioggia o vi porta a Venezia a un certo punto voi vedete prima il sistema alpino le prealpi ma prima di individuare la bocca di porto chiaro abbiamo dei landmarks adesso ma una volta non c'erano quindi una volta che hai trovato questo tu ti addentri ma non sai com'è fatto il fondale quindi abbiamo un problema che necessita di una grandissima esperienza ed è la famosa vista dei Colli Ugani dal Lido che forse l'avrete sperimentata che crea l'idea di una non so se si intravede una insularità fittizia che dà l'idea che sia un'isola perché abbiamo la distanza che ci abbassa con la curvatura dell'orizzonte le basse terre questo era evidentissimo prima delle grandi costruzioni dell'età moderna e contemporanea per cui c'è questa illusione di avere un'isola il profilo dei Colli Ugani visto da lontano richiama per chi ha esperienza un po' mi pare che ieri abbiamo parlato di Cursola ma le isole d'Almate le prime che incontriamo venendo da Chioggia in Barcavela c'è Sansego San Pietro dei Nembi il profilo di Lussino Lussin piccolo Lussin grande quindi abbiamo questo elemento montuoso verticale che manca qui quindi il senso del mare non è cioè fa fatica in qualche modo a familiarizzare con le acque di transizione c'è un grande geografo francese che definiva Venezia Pierre Georges parlava della dialettica tra ricerca del riparo e avventura del largo quindi le prime popolazioni che hanno abitato e poi sono state in qualche modo integrate con altre popolazioni hanno prima esercitato la loro dimestichezza nel riparo prima di avventurarsi al largo quindi tra fiume e lagune non è immediata l'acquisizione del senso del mare c'è un incerto confine quindi apprendistato apprendistato nautico capire i venti le vele le manovre la dislocazione dell'acqua se hai una barca a fondo piatto o se hai un minimo di chiglia cioè sono piccoli accorgimenti tecnici che poi la marineria la grande marineria degli arsenali ha in qualche modo sviluppato quindi l'idrosfera determina tutto questo questa tradizione di incertezza marina l'abbiamo ampiamente descritta e in un modo magistrale da John Ruskin quando parla proprio nelle prime pagine della sua primo volume della The Stones of Venice quel banco di sabbia detto il lido che separa la laguna dell'Adriatico che è così basso che non riesce a disturbare l'impressione che Venezia sia una città costruita in mezzo al mare quindi ecco le percezioni quando venendo qui in treno e vedo i turisti che dicono ah the ocean no è laguna cioè loro credono che la laguna sia il mare questo è indicativo della carenza di comprensione delle geomorfologie dunque abbiamo una natura primordiale quindi bisogno di fare ordine nel caos primevo soprattutto e qui abbiamo la letteratura tecnica ingegneristica archivistica di cui ognuno di noi è grande esperto soprattutto il tema dei boschi il tema del legname per costruire i natanti e soprattutto l'individuazione di itinerari e quindi sapersi muovere tra bassi fondali ecco qua si richiama avevo accenato prima a Cleonimo quindi il famoso passo di Livio che in pratica in qualche modo richiama quello che qualche anno più tardi viene scritto da Procopio di Cesarea giacché le navi a quel lido punto non possono approdare impedendolo il mare stesso che abbassa i fondi e quantunque a chi naviga appaia quella proda vicinissima l'illusione pure di fatto per l'estensione dei bassi riesce assai lontana quindi l'incapacità di marittimizzare questo tipo di organizzazione morfologica Cassiodoro questa l'ho citata anche se Dorigo non Vladimir Gorido non approvava questo elogio famosissimo di Cassiodoro quindi le case appaiono sparse eccetera ve lo risparmio un solo cibo eccetera è un grande elogio di una comunità sembra un occhio sembra di leggere Malinowski nelle isole Trobriand quando descrive i suoi oggetti di studio oggetti la sua comunità di studio quindi c'è sempre l'empatia dell'antropologo che elogia in realtà io vorrei sottolineare che in un'ottica postmoderna Cassiodoro può essere utilizzato soprattutto perché valorizza resilienza e tecnica che sono le parole chiave per affrontare i problemi che ha Venezia adesso che hanno tutte le aree umide quindi una tecnica a basso impatto rispettosa della natura ben adattata reversibile quindi evocazione di una territorialità mitica che però potrebbe avere dei ottimi spunti per il nostro cambio di approccio mentale quindi una riabilitazione etica culturale dei patrimoni ambientali cioè dei saperi locali perché quando i grandi ingegneri vanno a rilevare i problemi in laguna chiedono sempre informazione al rude pescatore e all'analfabeta capovalle per poter capire come funziona quindi l'umiltà dell'ingegnere immaginatevi adesso un tecnico che va a chiedere informazioni a un rivierasco inaudito adesso si chiama con un modo un po' elegante citizen science la scienza dei cittadini che sta prendendo piede anche a livello di comunità europea viene riconosciuta un po' la convenzione europea del paesaggio dice contano le percezioni degli abitanti però e vorrei avviarmi la conclusione assonanze morfologiche con altre lagune costiere mi permetto di citare una splendida citazione di un lavoro di Eugenio Turri un geografo italiano che recentemente abbastanza recentemente scomparso in un vecchio studio nel 1962 lui ha viaggiato andato nel Benin l'ex Daomei la presenza delle lagune è frequente rivela tratti non dissimili nel suo fondo originario antropologico da quelli della laguna veneta lungo le coste del Benin la laguna Nocue sfavilla sotto la luce tropicale con i profili bassi dei cordoni sabbiosi simile ai lidi veneziani i quali racchiudono un piccolo mare interno uno specchio lagunare popoloso e animato al centro sta Gambier un grosso aggregato di palafitte una sorta di Venezia preistorica quindi l'archetipo della palafitta è fondamentale per noi per capire resilienza per capire l'universalità per capire come è possibile sopravvivere in contesti così precari al di là di questo noi abbiamo tutta una serie di depositi alluviali come le Sundarbans del Gange vi sfido a trovare tantissime altre di queste situazioni il rio Paranà il rio della Plata la foce dell'Orenoco se volete il rio delle Amazzoni il Mississippi cioè è infinita la presenza è infatti la curiosità se voi andate a vedere i toponimi delle zone con le palafitte le chiamano Little Venice Peti Venice o altro cioè c'è l'archetipo veneziano che serve a identificare quei luoghi altrimenti non esplicabili in tal senso ho voluto citare Olinto Marinelli e il suo Atlante dei tipi geografici del 1922 in cui lui analizza il paesaggio italiano partendo dalle tavolette 125.000 quindi un centimetro sulla carta sono 250 metri in realtà in cui dedica un'enorme attenzione all'interfaccia terra mare lungo l'Adriatico e le aree umide da Comacchio e Lisonza e lui è molto attento e parla proprio della marittimità continentalità insularità come ieri è stato detto dal collega austriaco sul fatto che il senso del mare ha una sua ambiguità lui lo scrive però calcolate che nel 1922 stava iniziando la bonifica integrale quindi c'era la volontà quasi neoplatonica di separare l'acqua della terra quindi questo mito di emiurgico di governare questa incertezza quindi i fiumi la marittimità veneziana ha bisogno di fiumi soprattutto perché noi veneziani senza i fiumi non abbiamo legname quindi è importante menzionare la navigazione discendente dalle alpi quindi il governo del territorio veneziano ha bisogno dei fiumi per la sua marittimità quindi c'è un'intersezione con la terraferma anche operativa quindi legname le famose zattere questo è il piave la fondamenta delle zattere l'abbiamo qui vicino ma c'è il tagliamento c'è la brenta c'è l'adige gli zattieri è uno dei strumenti che lega la marittimità la terraferma forse il più intimamente il più importante perché abbiamo non solo l'arsenale e qui ho messo questa perché è la più famosa ma ce n'è tantissime di cartografie che idealizzano venezia circondata dalla barriera montuosa quindi non è solo un confine di spartiacque ma anche un'evocazione della presenza di legname quindi noi passiamo dalle palafitte nascoste perché venezia è una palafitta nascosta di milioni di tronchi che sostengono questa splendore di litosfera quindi calcare di vario tipo soprattutto pietra d'istra ma anche il biancone d'asiago il marmi rossi di verona ovunque vi guardiate la trachite guanea dove noi camminiamo per venire qui e passiamo alle palafitte delle piccole venezie le venezuelas scoperte in america a partire dal xvi secolo e qua è interessante leggere oviedo anghiera la raccolta di viaggi che fa ramusio per calcolare quante percezioni quante eccitazioni del senso del mare globale noi abbiamo in questo in questa nostra che partono da questa nostra setà quindi il segno dell'universalità universalità di un modello terra-acqua che oggi necessita di un adattamento per affrontare le sfide climatiche grazie grazie infinite al professor Valeriani per questa carrellata di estremo interesse e pregnanza ora è previsto dal programma una pausa grazie a tutti grazie a tutti